Sì, mi piace tanto perché quando era molto piccolo lo praticava con 10-12 anni, dopo è stato un periodo che non l'ho praticato molto perché pensava che era un po' peligroso, ma questo anno ho cominciato un'altra volta a praticarlo, la verità è una specialità molto divertente. Sì, mi piace molto, ma per allenarsi e per fare un po' di muscoli, va bene. No, scafoidi no, il ditto di la mano destra, ditto gordo di la mano destra. Vediamo come va.